Un cadavere è stato trovato nel pomeriggio di domenica a 5 miglia dalla costa tra Margherita di Savoia e Barletta. Non si sa chi sia perché non aveva con sé alcun documento ed era in avanzato stato di decomposizione. Solo l'autopsia potrà stabilire com'è morto. L'allarme è stato dato alle 14 circa da alcuni diportisti che hanno avvistato il corpo galleggiante. Trasportato a bordo di una motovedetta nel porto di Barletta dalla guardia costiera si è potuto comprendere che si trattava di un uomo di circa 40 anni e di carnagione chiara. Secondo quanto affermato dalla Capitaneria di Porto, l'uomo non dovrebbe essere un extra comunitario a giudicare dal colore della pelle e dai vestiti. Seguendo una prima ricostruzione del medico legale, visto lo stato avanzato di decomposizione, il corpo è rimasto immerso per circa un mese, forse trascinato dalla corrente. Per conoscere più dettagli bisognerà attendere però l'esito dell'autopsia disposta dal magistrato della procura di Trani Giovanni Lucio Vaira e che verrà eseguita nei prossimi giorni. Il cadavere è stato trasportato nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari.